Quello più fertile, il periodo in cui le mie canzoni mi hanno portato ancora oggi, dopo più di 40 anni, a essere qua. Ci sono tre città, Parigi, il mio piccolo paese in Toscana, Ponticino, e Mosca. Queste tre canzoni raccontano storie che io ho vissuto in questi tre luoghi. La prima, un teatro pieno, ma con una poltrona vuota, quella di lei che non c'era più. E poi vi racconterò le altre due, via via, cantando, cantando, parlando, parlando, sentite.